Musica Insieme per fare squadra è lo slogan scelto per la festa d'estate del Circolo Noi Pier Giorgio Frassati che si è svolta a Baruchella il 7 e 8 luglio. È stato un weekend di sport, cultura, animazione e voglia di stare insieme iniziato con il torneo di pallavolo in notturna di sabato sera, organizzato dal gruppo giovani. La festa è continuata domenica con la passeggiata naturalistica sui percorsi della camminata tra il Kiwi in collaborazione con il gruppo podistico. Poi è stata celebrata la messa, seguita dal transo comunitario a cui è partecipato anche il presidente provinciale dell'associazione Noi, Lorenzo Stefani. Nel pomeriggio si è svolta anche la seconda partita di calcio scapoli contro ammogliati presso gli impianti sportivi comunali e la festa si è conclusa con un pasto a base di panini e salsicce al chiosco con i volontari del Bar del Circolo. L'associazione Noi San Girolamo di Pissatola invece domenica è stata impegnata con la quarta edizione del raduno delle Fiat 500 e non solo. L'evento è stato organizzato assieme alla Compagnia della Sacra Vigna in collaborazione con la Proloco di Trecenta, il Car Club 500 di Occhiobello e il Club Autostorico e Tommy Car di Villa Bartolomea.